...dei miei due cugini insieme a Cristian, Galbarini, Cristian e Alessandro. Allora, oggi siamo in una partita classificata, sei stato individuato, siamo negli archivi, abbiamo preso Valkyrie. Alessandro, l'altro mio cugino, non conosce questo gioco, quindi... Ehm... Certo, non l'ho mai visto, scusa. Ehm... Oh va 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 va! Spariamo a casa! Io ho sparato a casa, devo prendere la pistoletta per i droni. Dov'è andato? Ma vai a cagare, devo mettere le telecamere che tu distrai. Mettiamola sopra. Eccolo, ma pensavi che non ti vedevo. Oh, guarda che ti vede, lo scarto. Oh, c'è uno che parla intanto, quindi adesso lo andiamo subito. Ah no, ha tolto le cuffie. Comunque ragazzi... Era lì! Era in quella stanza, Tommy vai giù! No, ma no, era... Sono i miei compagni, questi sono i miei compagni. Uh, guarda che ce l'aveva lì, è la sua trappola. Allora, se qua io starei anche così... Ma cos'è questo? Valkyrie ho preso. Ah, Valkyrie, scusami. Allora io sto qua sotto e a... no, non è vero. Sì, ce la facciamo. Uh, è lì, è lì, è lì, è lì sotto. No, non si rompe questo gioco. No. O sennò sfonda... Io sto qua dentro. Cos'è questo ripostiglio? È un ripostiglio. Eh, cos'è questo ripostiglio? Cos'è? Un ripostiglio? È un ripostiglio di fucile, di pistole. 3 contro 5, cacchio. Perché, perché? Così guardo quando arriva qualcuno. Uh, stanno shottando. Ha lanciato due granate. Eccolo, eccolo lì. Oh! Sì, l'ho ucciso quella... Bello! Eh, adesso siete due versus quattro. E quello è... L'ho ucciso un altro! No! L'ho ucciso due! Solo venivo che ha ucciso qualcuno però. Siamo 3 contro 5. Due hanno quittato. Due hanno quittato malamente. Perdiamo ovviamente perché due hanno quittato. Vabbè. Vabbè. Allora. Ci vediamo il secondo. Ok ragazzi, eccoci qua nel secondo round. Mi ero dimenticato di ricominciare la registrazione perché io non ho tagliato. Non ho tagliato. Ecco. Me l'ha ricordato. Chi era quello? Shuro Christian. Allora. Il nostro compagno è morto e siamo due contro 5. È lì, è lì, è lì. Perché ho ucciso il tuo compagno? No, non l'ho ucciso io. È lì, è lì, è lì. Granata. Ah, non c'è più legge. Allora io vado qua e vado alla botola. Botola. Diamo la botola. Ah, l'hanno rinforzata. Meno male che ho termite. Eh no, ho perso dai. Non posso fare full team, è impossibile. Ma arrivano da dietro. Chiama il cesso, il cesso. Il cesso è aperto su. Oh! Oddio santo. Arriva in su, arriva in su. Arriva in su. Metti la c4, c4. Eh, non ce l'ho il c4. Ah, non ce l'hai. Ah, non ce l'hai. Ah, ci sono accesi da soli. Che babbi. Secondo me uno ha lanciato la granata, non ha sbagliato. Ecco. Ma cosa? Gli ho fatto un end shot. L'ho preso in testa, ragazzi. Che c'è? Voglio vedere il replay. Spera, no. Guardate. Guarda, guarda. Mi ha preso quando ero già morto. Vabbè, ci vediamo al terzo round perché mi sto già incavolando. Oggi qua nel terzo round siamo negli archivi di nuovo perché sti qua votano sempre le stesse cose. Questa volta giochiamo più sul serio. Andiamo a barricare le... Oh, eccolo. A barricare tutte le... Tutte le... Oh mio Dio, come si chiama? Le barricate. Le botole, ecco. Allora, ce n'è una qua. Adesso la barrichiamo. C'hanno già trovato l'obiettivo. Siamo due a zero per loro, raga. Perché due, ovviamente, in testa piccata, devono malamente quittare. Ovviamente, raga. Non è mica... Non è mica... Una... Una cosa... Eh... No, no. Adesso voglio capire perché quello lì ha ammazzato lui. Perché si sono uccisi vicino da questi? Perché? Perché? Arrivano da lì. Ricarica. Oh... La spalla. Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Vuoi vedere il replay adesso? Dai... Vuoi vedere che non te neanche... Non te neanche... No, non può. Ha preso il muro. Ha preso il muro. Ha preso il muro. Ad Alessandro non gli piace sto gioco. Quindi non lo so. No, no, no. Era in Rocket League allora. Voglio fare il video lo stesso che... C'è... Ok, ragazzi. Comunque perderemo la partita sicuramente. E... Intanto che... Siamo qua a aspettare. Ok. Ma... No, aspetta. Vi devo dire che faremo... Dopo questo video lo speciale... Cento... Eh... Cento... Cioè, magari... Venti... Venti iscritti. Venti iscritti. Comunque ci vediamo al quarto... Oddio. Stavo per dire una bella cosa. Eccoci qua. Nel quarto round. Iniziato malamente. Siamo in una classificata! E quello... E capitano? Questo scemo ci ha ammazzati perché... Anche se... No, no. Io adesso... Adesso basta. Basta. Io... Io... Io esco... E noi ci vediamo... Nella... Seconda partita. Forse... Adesso facciamo un'altra partita perché mi son rotto. Ci vediamo nella seconda partita. 煉re, bella, bella, bella. So... I... Rkeno una via? Grazie a tutti